La mostra su quella che è la natura, la storia dell'isola Dischia. Parliamo con l'insegnante Rosario Abbono che ci spiega un po' questo progetto. Quest'anno abbiamo dovuto fare un percorso itinerario, insomma sull'isola siamo andati a fare visita ai vari siti, abbiamo ricercato un po' i siti archeologici e anche un po' abbiamo voluto far conoscere ai nostri bambini la storia vera e la storia dell'isola, dell'origine dell'isola e un po' la leggenda. Poi abbiamo un po' ricostruito, se voi accomodate nell'altra stanza, i vari siti archeologici. Abbiamo parlato molto di Punta Chiarito, un sito archeologico di cui nessuno ne parla, ma che vorremmo che se ne parlasse un po' perché è una ricchezza per Panza, ma anche per tutto il comune di Forio e per tutta l'isola. I bambini sono divertiti? Sono molto divertiti e devo dire però sono rimasti delusi dal sito archeologico di Punta Chiarito in quanto hanno trovato solo rovi. I bambini hanno scritto una lettera al sindaco cercando di spingerla a fare qualcosa e di veramente aprire questo sito perché veramente sarebbe un museo all'aperto e anche un introito, un'opportunità. Un'opportunità per tante persone che poi lavorerebbero sulla nostra isola e quindi avrebbero tante opportunità in più, quindi una risorsa in più. Abbiamo tantissime cose sul nostro territorio però che non sono rivalutate. Anzi, questa è stata la delusione dei bambini. Abbiamo prima ricostruito tutta la casa, il sito archeologico, fatto delle ricerche, anche a Napoli, quindi attraverso il Museo Nazionale a Napoli e poi siamo andati a vedere proprio direttamente sul sito e abbiamo visto che è tutto ricoperto. Nessuno ne parla, nessuno fa niente. E quindi la casa che abbiamo ricostruito di là sarebbe proprio un'opportunità in più per tutta l'isola, per rivalutare l'isola, non solo il territorio di Forio ma tutta l'isola.